buongiorno architettorio di Milosolo, architettorio di medicina per l'anima, ricordo sempre i libri ho tre grandi pregi, costa un po' con semplicissimi, scritti io compratele e fate una buona recensione su Amazon allora, buon anno ancora all'inizio dell'anno si fanno sempre tanti buoni propositi ecco, chi volesse asseminare le orchidee, guardate queste sono delle nuove varietà, guardate che belle, che colori guardate i colori, guardate questa qui, a me piace tantissimo questo questo qui con dentro un po' di lilla nel labello ma poi ci sono tanti, guardate questa che bella o questa qua, o questa qui, o questa, o questa mettersi a seminare non ci vuole tanto, ed è una cosa facilissima l'ho fatto io che sono un gran casinista, per cui può farlo chiunque e potete arrivare a vedere degli libri nuovi che avete fatto voi, potete chiamarli col nome che volete abbiamo fatto diversi video su come si fa la semina andate lì, vedete, queste qui sono delle Cambria sono comunemente chiamate Cambria e in realtà il nome Cambria è il nome di un ibrido che è stato creato da Charles Watt nel 1916 Charles Watt era stato un grande ibridatore inglese che ha fatto un casino di ibridi, ne ha fatto veramente tanti ne ha fatto un casino, soprattutto di questo gruppo qua tra l'altro nel 1916 ne ha creato uno che era così bello che si chiamava Huista Chiara Cambria che da allora tutti i libri di Ottocrossi non li chiamano Cambria perché era così bello questo qui si chiamava Huista Chiara Cambria Plus Plus era il torrente che passava vicino alla casa di Charles Watt si chiamano Huista Chiara perché tante volte sentite i nomi dell'orchidele soprattutto di queste qua Huista Chiara, Colmanara, Beallara, Wilsonara e così perché? allora la Cambria, quella che chiamano comunemente Cambria la vera Cambria era una Huista Chiara e la Huista Chiara è un libro tra Odotto Grosso, Miltonia e Coclioda praticamente Odotto Grosso per Miltonia fa Odottonia Odotto Grosso per Coclioda fa Odottioda Odottonia per Odottioda fa un nome troppo grande allora in questo caso qua si usa il nome di un grande appassionato dell'orchidea un grande botale con uno che ha avuto dei grandi meriti del campo dell'orchidea con la desideria Cenara e così Huista Chiara in ora di Charles Wittek che è stato il primo a fare un libro di questi tre generi qua l'ha chiamato con il suo nome Huista Chiara che era un fiammingo, continuatore fiammingo di orchidea bene, se volete fare un libro queste qui dovete trovare i nomi e poi le incrociate potete registrarle ogni registrazione costa almeno quando registravo io costava circa 9 sterline perché si registrava un RHS in Inghilterra all'Alessander's List allora volevo dire un'altra cosa che oggi mi ha scritto una signora che ha cercato notizie su Rod McClellan Rod McClellan è stato uno dei più grandi contenatori di orchidea americano negli anni 50 del secolo scorso in un viaggio in Venezuela ho visto la Catrea Mossie una bellissima orchidea che finisce per Pasqua e mi sembra che ha comprato perché non trovo più notizie ho cercato niente non trovo più niente su Rod McClellan ha cercato ha comprato mi sembra 50.000 piante di Catrea Mossie ha costruito una grande azienda di orchidee a Palo Alto di California e lì ha messo tutte queste 50.000 piante di Catrea Mossie e poi ha fatto un sacco di pubblicità sulle Catrea Mossie e l'orchidea di Pasqua e quando è arrivato il momento si è attrezzato anche per la spedizione per raccogliere fiori la spedizione allora si vendeva come fiori del cicero l'orchidea e a Pasqua ha venduto praticamente tutte le Catrea Mossie tutti i fioristi americani che gli spediva come fiori del cicero c'è un'altra grandissima le due più grandi aziende di orchidee che c'erano loro in America erano Rod McClellan a Palo Alto e Stuart Orchis a carpinteria e Stuart Orchis è stata veramente una carina tutti e due avevano due cataloghi fantastici bellissimi Stuart era veramente uno fortissimo soprattutto sulle Palenopsis e invece Rod McClellan sulle Catrea di Pabio Pedrum e oggi in Italia c'è un personaggio che è uno dei più grandi esperti di orchidea al mondo che si chiama Leandro Capriles anche lui della California che adesso vive dalle parti di Pistoia e è stato per tanti anni il direttore di Orchid Digest la più prestigiosa revista di orchidea del mondo orchidea è un bimestrale cioè esce ogni due mesi ed è bellissima peccato che di inglese allora ho chiesto perché ho fatto ricerche su Rob McClellan e su Stuart Orchis oggi non si trova più niente ho chiesto a Leandro ma tu conoscevi Stuart Orchis? ma io il primo lavoro che ho fatto è stato lo Stuart Orchis ma dai allora gli ho detto raccontami come è nata questo Stuart Orchis allora mi ha raccontato che Stuart Orchis Stuart era andato a una mossa di orchidea e era andato a casa con un bellissimo Cibidium e la moglie gli ha detto ma che bello quanto l'hai pagato? fa 3.000 dollari 3.000 dollari continuiamo le orchidee e lì ha cominciato a continuare le orchidee comunque oggi si è andato a cercare Rob McClellan e Stuart Orchis non si trova più niente perché la gloria del mondo passa e passa in fretta come dice Vangelo non so che cosa è così tanti grandi personaggi subito dopo che non ci sono più basta se nessuno più riconosce si perde la memoria ok dai a domani